Musica Ottobre 2024, 100 anni della presenza dei salesiani qui a Belluno. È un evento molto bello, particolare, un ricordo che però non vuole essere soltanto un far ricordare certe foto, certe immagini, ma rendere viva la presenza di Don Bosco. Don Bosco mi ha sempre entusiasmato proprio per la sua varietà nel modo con cui ha lavorato, ha cambiato negli anni, sia nei primi anni con i suoi ragazzi, con le scuole, con tutte le attività, gli oratori, tutte le iniziative che ha avuto. E questo è successo anche nella nostra realtà di Belluno, 100 anni di presenza, ma una presenza che si è sempre diversificata. L'amore, l'attenzione ai ragazzi è sempre stata presente, però la modalità di intervento anche a Belluno è stata diversa. Partiti chiamati da non sperti a seguire l'ofanatrofio, i primi tre salesiani sono arrivati proprio e solo per questo. Poi un po' alla volta le cose sono cambiate, si è passati all'oratorio, ci si è allargati, una piccola chiesa, la parrocchia. Poi quando abbiamo avuto la possibilità di trasferirci, dove siamo adesso all'Istituto Agosti, tutta l'attività con i giovani lavoratori, con le scuole professionali, poi le scuole medie, poi la parrocchia, adesso anche le elementari. Per cui un modo sempre diverso. Per cui per noi questi 100 anni sono davvero importanti perché dicono e ci interrogano, ci mettono in crisi per dire e adesso noi salesiani, figli di Don Bosco, cosa possiamo fare di nuovo per i giovani, per i ragazzi di oggi, per le famiglie? Questo penso sia il nocciolo, quindi fare sì una festa, ricordare i 100 anni, ma soprattutto perché deve provocarci ed interrogarci sul futuro. Ecco, diciamo che comunque anche lo spirito stesso di attenzione ai giovani però si è evoluto in base anche alle problematiche. Ricordiamo per esempio il momento un po' difficile della pandemia, l'isolamento. Che realtà si vive all'interno della scuola, Don Alberto? Sicuramente all'interno della scuola la realtà è un po' più semplice, nel senso che scuola dell'obbligo, scuola vengono, vengono volentieri. Il clima è molto bello da noi, io vedo che c'è una bella, si respira una bella aria con i genitori, con gli insegnanti. Ecco, su questo diciamo si cammina bene, no? Ciò che manca, ciò che si fa più fatica oggi è proprio tutto l'aspetto pastorale, quindi l'attività che può essere l'oratorio, un oratorio che non può più essere quello di 50-60 anni fa, un oratorio che deve cambiare, però i ragazzi sono cambiate, le famiglie, le esigenze sono cambiate, l'idea religiosa è cambiata, no? Per cui stare al passo non è sempre facile. Noi stiamo cercando di attivare delle iniziative nuove per i giovani, no? Che rispondono in certi momenti, vedi l'estate, il Grest, dopo però ci sono momenti un po' di stanchezza. Adesso stiamo recuperando proprio l'idea di oratorio a partire proprio da questi giovani che si possono ritrovare, noi faremo incontri una volta al mese, poi ci sono il gruppo degli amici Domenico Savio, ci sono tutte le attività della catechismo e si spera un po' alla volta di riprendere il percorso, perché sappiamo bene che oggi proprio per un discorso culturale è molto più difficile vivere e portare, presentare la proposta cristiana in modo autentico, vivace e appetibile. Un po' il frutto di questo centenario e anche un modo per ricordare questo evento, questo anniversario, è stato proprio la realizzazione di un libro che alla fine si è rivelato anche corposo perché saranno 420 pagine, è il lavoro di un anno e si è impostato un po' su tre punti, quindi la raccolta di fotografie e anche la scansione di un ricchissimo materiale fotografico recuperato sia qui all'Istituto Agosti e anche in parrocchia e qui sono stato aiutato da un altro collaboratore proprio per la parte fotografica che è Costantino Cavallini, quindi ci sarà un ricchissimo apparato di immagini sia storiche in bianco e nero ma anche recenti che illustrano appunto lo sviluppo di questa realtà. Poi le testimonianze e sono tantissime quelle che abbiamo raccolto, quindi anche sacerdoti e quadritori che sono stati qui ad Agosti e anche in parrocchia, quindi ci saranno tutta una serie di ricordi e testimonianze e poi anche, proprio perché i ricordi non svaniscano e che ci possa essere proprio materiale anche su cui riflettere su questa presenza, anche trascrizione di documenti, di articoli, di ricordi delle cronache appunto. Un aspetto interessante che è emerso sono proprio le cronache che i salesiani trascrivevano e redigevano anche con puntualità dalle origini fino agli anni Ottanta, quindi c'è un materiale ricchissimo che il libro fa emergere in parte naturalmente e quindi racconta una storia e si vuole porre però anche come continuità verso il futuro, perché sulla base della nostra esperienza passata possiamo appunto porci anche con speranza verso il domani, anche vedendo le nuove generazioni. Quindi racconta proprio tutta la storia, dagli inizi eroici di Don Antonio Sperti, qui siamo prima del 1924, quando questo sacerdote ha raccolto degli orfani e ha costituito un orfanatrofio e lui sperava che i salesiani potessero prenderlo dopo la sua morte. Lui aveva addirittura scritto a Don Bosco di mandare dei salesiani, cosa che non è siccome è stata possibile, ecco questo sogno di Don Antonio Sperti si verificherà nel 1924, grazie anche alla mediazione del Vescovo Cattarossi giunsero qui i primi tre salesiani. Questo è un racconto di opere, di strutture, come è nato il primo Istituto Sperti a Piazza Piloni con la chiesa di San Rocco, dove ora c'è il centro congressi Giovanni XXIII e poi il passaggio nell'Oltrardo. Ecco qui nel passaggio all'Oltrardo ci sarà anche la figura di Don Albino Luciani che andava a dire messa nella chiesetta di San Giuseppe a Borgo Pra e che ha aiutato i salesiani che giunsero qui subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci sarà anche la presenza del nuovo Beato. E poi è tutta la storia di come è nata la scuola, prima di avviamento professionale, poi scuola media, nel 2001 scuola primaria, poi la realtà dell'oratorio, la realtà anche di altri che compongono la famiglia salesiana come i cooperatori, come gli ex allievi, la polisportiva giovanile salesiana, quindi l'ambito dello sport. Quindi è tutto questo grande affreso, questo grande diamante dalle tante sfaccettature che emerge in questo libro. Una figura di riferimento all'interno della comunità salesiana bellunese è Don Vinicio Greggio. Mi sono trovato non bene, benissimo, benissimo perché sono appunto come ho detto sono 24 anni, 25 che sono qui col prossimo anno e ho sempre seguito la parrocchia soprattutto e seguivo la comunità di Nogaré, c'è una chiesa molto antica, accogliente, molto piccola e neanche metà di questa e lì seguivo quel gruppo, quel gruppo lì, nel periodo di primavera visitevamo le famiglie. È contento Don Vinicio lei? Sono felicissimo cara, arrivo quasi a 90 anni e ancora sento che il cuore batte. Ci saranno una serie di proposte, di iniziative per festeggiare con tutta la comunità bellunese. Esatto, noi partiremo con venerdì 18 in Sala Bianchi alle ore 18 con la presentazione ufficiale del libro. Poi domenica 20 ottobre ci daremo appuntamento per un momento di festa proprio in Piazza dei Martiri alle ore 9.30 con degli amici per un'autorità proprio davanti a San Rocco dove tutto ha avuto inizio e da là vorremmo partire in corteo con la banda Don Bosco proprio e portarci presso l'Istituto Agosti con una fermata magari nella vicino alla chiesa di San Giuseppe ricordando alcuni episodi, ma proprio un momento di festa molto semplice. Arrivati poi qui all'Istituto Agosti a seconda del tempo la Santa Messa verso le 11.30 e a presiedere la Santa Messa ci sarà il vicario del retor maggiore, cioè il capo diciamo di tutti i salesiani del mondo per cui lui sarà presente qui con noi a festeggiare e a presiedere la Santa Messa. Poi un buffet per tutti, quindi tutti siamo invitati per un momento di festa, la banda che suona di nuovo e poi una prolusione verso le 15, un incontro diciamo con il vicario del retor maggiore Don Stefano Martoglio e la presentazione del libro perché così uniamo le due cose, un'oretta, un'oretta e un quarto di incontro e questo il giorno 20, mentre il giorno 23 che sarebbe proprio il giorno dell'arrivo dei salesiani alle 18.30 sarà il nostro Vescovo a presiedere l'Ucarestia per una preghiera insieme. E poi l'ultimo appuntamento ci sarà anche il giovedì 24 un'ulteriore presentazione del libro proprio nella nostra chiesa parrocchiale, diamo la possibilità, ecco più possibilità alle persone di venire a conoscenza del libro, di come è stato ideato, di cosa dice e penso sia una bella occasione anche come dicevo prima ricordare sì il passato ma per essere proiettati verso il futuro. Ecco quindi insomma un mese denso di appuntamenti per festeggiare una ricorrenza e altri 100 anni. Eh io mi auguro che sia così, chissà come, chissà in che forma ma io sono convinto di una cosa che al di là dei nostri limiti che possiamo avere come uomini, come sacerdoti, per fortuna c'è lo spirito, per fortuna c'è qualcuno che Don Bosco ci sorregge ed è per lui, con lui che riusciamo magari e speriamo a continuare a portare frutto e portare quello che è l'amore di Dio in mezzo ai ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.